Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Verso le elezioni, la nostra tribuna elettorale per accompagnarvi al voto del 3 e 4 ottobre prossimo. Sono 54 i comuni in Puglia dove si sceglierà il sindaco, sono 5 i comuni nel Barese, fra questi Adelfia a cui dedichiamo il contenitore odierno, a contendersi lo scranno più alto a Palazzo di Città il sindaco uscente Giuseppe Cosola e Costantino Pirolo. Parto subito precisando che il candidato Costantino Pirolo non è qui con noi oggi, ci ha trasmesso una comunicazione, una mail alla nostra redazione in cui in oggetto c'è scritto indisponibilità trasmissione, la leggo insieme a voi, non potrò presenziare all'incontro tra me il sindaco uscente per motivi di organizzazione personale. Grazie dell'invito e a presto. Noi siamo sempre a disposizione, salutiamo anche se a distanza Costantino Pirolo, a lui va il nostro in bocca al lupo per questa sfida e restiamo sempre disponibili per un'intervista in qualunque modalità lei ritiene, insomma se ci sta seguendo lo ribadiamo, la nostra rete è a disposizione di ogni candidato così come le avevamo anticipato o tramite collegamento Skype o in presenza o individuare un giorno che può incontrare le sue disponibilità, noi siamo ovviamente a disposizione. Qui con me in studio c'è il sindaco uscente, candidato al BIS e saluto e ringrazio Giuseppe Cosa, l'ha benvenuto. Buonasera, grazie. Dunque che effetto fa stare qui a un confronto senza lo sfidante, pro e contro di questo tipo? Il pro ovviamente è che posso parlare mezz'ora io facendo una specie, insomma. Infatti noi abbiamo diviso ovviamente il contenitore che avremmo dovuto svolgere per un'ora, ovviamente sempre per il rispetto di tutte le parti lo abbiamo dimezzato, anche perché effettivamente sarebbe stato impegnativo. Peccato perché ho venuto appositamente credendo di trovare il mio avversario e mi sarebbe piaciuto un po' confrontarmi con lui su quelli che sono i temi che di solito si affrontano da lontano magari sui social, magari a quattro occhi era meglio. Sarebbe stata un'opportunità. Un'opportunità anche per i cittadini che magari avrebbero avuto adesso l'occasione di vedere i due avversari politici insieme a discutere delle problematiche del Fies. Certamente. A proposito di problematiche, lei con quale spirito si lancia verso questo bis? Questi cinque anni intanto che si lascia alle spalle, come sono? Come sono stati anche nel rapporto con i cittadini? Devo dire la verità, non mi aspettavo di ritrovarmi con quello stesso spirito che avevo non cinque anni fa, ma vent'anni fa, trent'anni fa, quando ho cominciato a fare politica. Mi risento forse come non mai adesso più forte, con quella volontà di voler continuare questa battaglia che io faccio ormai da tanti anni a favore della cittadinanza. Sarà anche perché magari in questi cinque anni ho ottenuto molti risultati dal punto di vista amministrativo, quindi mi sento veramente carico. Trent'anni fa, dunque. Sotto quali insegne lei ha cominciato e si è rimasto coerente con quel percorso che hai inviato da giovanissimo? Io ho cominciato allora col movimento sociale, parlo di anni fa. Poi sono passato in alleanza nazionale, poi vi è stata tutta una serie di passaggi a livello nazionale a cui ho aderito e quindi adesso mi ritrovo però a capeggiare una serie di liste civiche per il mio convincimento personale. Cinque liste civiche. Puoi spiegarci questo convincimento personale, questo civismo che è una strada che comunque è stata abbattuta già da molto tempo. Perché si sposa questo tipo di progetto? che a volte forse potrebbe, qualcuno critica, disorientare i cittadini o forse no e che cosa ne pensa? Dipende da chi organizza queste liste civiche o dallo spirito con cui si affronta la campagna elettorale. Io ho deciso cinque anni fa di abbandonare la vita di partito e di dedicarmi interamente al Paese. Quindi ho già detto, non una ma mille volte, che il mio unico impegno è quello del Paese. Quindi persone e non partiti. Persone e non partiti. Io ero pronto ad accogliere chiunque volesse, chiunque è pronto a voler aderire a questo mio progetto a favore del Paese. L'ho fatto cinque anni fa e sono convinto adesso. Io non ho altre ambizioni. Non ho ambizioni di andare alla Regione, non ho ambizioni di andare alla città metropolitana, non ho nessun tipo di ambizione che non sia quella del mio Paese. E il senso proprio di queste liste civiche è quello. Io mi dedico ad Adelfia e il resto ad Adelfia. Non mi interessano i colori politici che magari al di fuori d'Adelfia molte volte tendono con i loro giochi politici, i loro orchestramenti, anche a livello magari superiore, a danneggiare una comunità anziché migliorarla. Anche se nelle sue liste ci sono importanti nomi provenienti dalla destra, dal centrodestra. Diciamo che siamo una lista eterogenea. Per quanto poi sia eterogenea. Insomma ci sono dei nomi che spiccano. Sono nomi storici che ovviamente hanno sempre fatto con te il mio percorso. Che comunque riprendono anche il suo legame con il centrodestra. È un legame più che altro personale con me e io ringrazio tutte queste persone perché hanno voluto sempre sposare questo mio percorso, questa mia strada e l'hanno fatto senza pentirsene. E ancora oggi li ho al mio fianco. Credo che sia una cosa bella pure questa. Nel campo politico dove molto spesso i sentimenti lasciano il tempo che trovano, io da tanti anni ho con me al mio fianco queste persone che collaborano con me e veramente mi sono al fianco mattina e sera. Che cosa manca ad Adelfia? Quali sono i suoi programmi? Che cosa sente di non essere riuscito a portare a compimento in questi cinque anni e che vorrebbe promettere agli adelfiesi nel caso in cui dovessero rinnovarle la fiducia? Diciamo che abbiamo fatto molto per Adelfia. Abbiamo fatto tanto, abbiamo aperto numerosi spazi, abbiamo organizzato numerose attività. Credo che ne parleremo dopo. Diciamo che in qualcosa che però abbiamo cominciato a lavorare in questo periodo è la manutenzione delle strade che è precaria come in moltissimi paesi del sud che però in questi mesi sono quasi due anni che non è che abbiamo messo mano e continueremo nei prossimi mesi, se verrò rieletto abbiamo già altre strade in programma di asfaltare. E sul problema della polizia locale che purtroppo è un problema anche quello fortemente sentito. Abbiamo cambiato il dirigente, adesso abbiamo un bravissimo ragazzo che fa il dirigente della polizia locale, abbiamo però bisogno purtroppo di più uomini perché senza uomini la polizia locale non è in grado di lavorare come dovrebbe. E questo è un problema che ovviamente i cittadini sentono molto e cui io spero e sono convinto di poter lavorare nei prossimi mesi. E a proposito di opere, mi diceva quali si sente orgoglioso di aver realizzato? Tutto indistintamente. Mi piace ricordare la Gabbia dei Leoni, mi piace ricordare la Biblioteca Comunale che è diventata un centro di attrattiva per tutti i ragazzi a Del Fiesi, un'opera bellissima. La Gabbia dei Leoni invece è diventata un centro polisportivo bellissimo in cui i ragazzi vanno anche a giocare, le famiglie vanno a intratterersi. L'Alvio Torrentizio, un'opera che è bellissima, meravigliosa, veramente prendiamo i complimenti a tutti i cittadini magari dei paesi vicini che vengono, rimangono meravigliati e stupiti da questa opera. Piazza Cimarusti che abbiamo ridato a nuova vita, a nuovo lustro. La riapertura della Torre Normanna che erano quasi 40 anni che era chiusa, è l'unico monumento storico nazionale riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali e che abbiamo riaperto dopo 40 anni di chiusura, purtroppo per il Covid siamo stati costretti a tenere chiuso, ma mi auguro nei prossimi mesi di riaprire i cittadini in tutta la sua bellezza. Posso ricordare l'apertura però del centro comunale per anziani. Oggi gli anziani, che prima non avevano un punto di aggregazione in cui passare il loro tempo, oggi frequentano questo centro per anziani e sono soddisfattissimi. La riapertura del palazzetto dello sport che era chiuso da 5 anni e che noi abbiamo riaperto e che abbiamo riaffidato alle società sportive e ai cittadini ad El Fiesi. E un'ultima opera, quella che stiamo per inaugurare sabato, è l'area picnic presso il campo sportivo, quindi lì c'è tutto un progetto che è quello del campo area picnic sulla sinistra con i campi nuovi da tennis, gli spogliatoi e tutto quanto, poi a partire da inizio ottobre. Gara già appaltata e affidata alla ditta che ha vinto. Cosala, io ricordo, ci siamo lasciati prima della pandemia, novembre 2019, con le luminarie per la festa di San Trifone che vennero giù. Bisogna precisare, ci fu una tempesta di vento, condizioni climatiche, novembre 2019, condizioni climatiche veramente avverse. Però, insomma, le immagini erano, insomma... Tragiche. Tragiche, veramente. Sì, esatto. Non avrei voluto usare quel termine, ma effettivamente è così. Tragiche anche perché solo una del Fiesi può capire quelle immagini. Certo. Per fortuna, senza danni, senza danni a persone non ci furono... Senza danni. Io ero presente al momento del frollo. Vi posso dire che veramente in quel momento c'è stato qualcosa o qualcuno che ha forse accompagnato la caduta delle luminarie e non è accaduto nulla. È stato un momento tragico, veramente. È sempre stato un po' un tasso dolente quello della festa patronale. C'è chi pensa che sia stata sempre troppo colorata... Un po'... Il bello, invece, della festa patronale di San Trifone, parliamo ovviamente, è proprio questo suo essere una festa di popolo, una festa in cui accorrono tutti i cittadini del Sud Italia e anche al di fuori dell'Italia. Si respira ancora in questa festa un'aria delle vecchie feste degli anni, se vogliamo, degli anni passati, degli anni 60, 70. Questi colori, questi odori, questa gastronomia, questo voler partecipare in maniera sentita alla festa. Credo che solo la festa di San Trifone ce l'ha in tutta Italia. Parliamo di quella che è stata la pandemia, indubbiamente tempi difficili, speriamo si vada verso la risoluzione. Non sappiamo che cosa ci attende esattamente, però che cosa significa accompagnare la cittadinanza in un periodo così particolare? Sono momenti durissimi che spero di aver lasciato alle spalle. Si lavorava 24 ore su 24, sono stati momenti tragici, cioè le parole non possono esprimere quello che noi sindaci abbiamo vissuto in quel periodo. Dico spesso io che in quel periodo, soprattutto nella seconda e terza ondata, dove abbiamo cominciato veramente a contare i morti e purtroppo le persone in ospedale si rincorreva alle bombole d'ossigeno. E' stato qualcosa di tremendo, cioè intere famiglie che nel giro di poche ore venivano contagiate, persone anche giovani che purtroppo finivano in ospedale. E soprattutto questo grido di aiuto che proveniva dalle persone a cui noi potevamo dare solo risposte parziali. E quindi noi ci sentivamo in parte come legati, come con le mani legate, perché veramente non eravamo in grado di dare risposta a questo evento che era straordinario. E le persone purtroppo si rivolgevano ai sindaci per avere risposte. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo messo in campo un'organizzazione, posso dirlo, impeccabile. Grazie anche e soprattutto alle associazioni di volontariato locale che abbiamo coordinato, alla protezione civile. Abbiamo messo su una rete organizzativa che non ha lasciato nessuno fuori dalla pandemia. Nel senso che chiunque aveva bisogno anche di una spesa, aveva bisogno magari di un medicinale, aveva bisogno anche semplicemente di una parola di conforto, trovava la parola di conforto, trovava la busta della spesa, trovava quando necessario tutto l'aiuto di cui occorreva a quel momento. Per quanto riguarda la sanità, su cosa punterebbe ancora eventualmente, cosa prometterebbe ai cittadini a Delfiesi? La sanità è una cosa che non riguarda prettamente un sindaco. Io però ho osservato che soprattutto nei momenti di massima pandemia, quando veramente i casi alla Delfie avevano toccati 350 casi al giorno quotidiani, abbiamo avuto difficoltà a relazionarci con gli organi superiori. Noi abbiamo dovuto mettere in campo tutte le nostre forze, anche per relazionarci con la ASD, con gli ospedali, perché anche loro purtroppo si sono trovati a che fare con un caso straordinario, un evento straordinario di cui nessuno poteva avere, poteva immaginare, poteva avere sentore o causa precedentemente. Siamo riusciti a superarlo grazie alla buona volontà anche dei dipendenti della sorveglianza Covid e degli ospedali che si sono messi, lo ripeto, a piena disposizione 24 ore su 24. Noi abbiamo avuto persone straordinarie. Io dico che nei momenti di massima difficoltà si vede il livello di un uomo, si vede lo spessore di un uomo. E noi abbiamo avuto a che fare con uomini di spessore che non hanno lesinato veramente di dare la loro disponibilità a favore dei cittadini che in quel momento ne avevano bisogno. Tasso dolente, apro e chiudo parentesi, però un passaggio doveroso perché a proposito di sanità sto per fare riferimento a dei fatti che comunque avvengono nell'ambito del territorio di Adelfia. Mi riferisco alle criticità registrate in una residenza di assistenza per anziani. Sono fatti recenti di cronaca questi, ecco, alla luce di questa fragilità in qualche modo che è emersa rispetto a questa struttura che è fondamentale per l'assistenza alle persone fragili, agli anziani. Che cosa sente di dire? Sempre con un occhio al futuro. Diciamo che tutta l'esperienza che abbiamo accumulato in questo periodo ci serve anche per guardare al futuro. Quindi noi stiamo in stretto contatto ormai quotidianamente, diciamo, sia con la nuova dirigenza della casa di riposo, sia con gli assistenti sociali, sia con la ASL, in maniera tale da monitorare quotidianamente tutto quello che accade all'interno della casa e di poter intervenire qualora, speriamo non ce ne fosse più bisogno, però qualora ci dovesse essere bisogno in maniera immediata e rapida. Adesso a che punto siamo? Si è risolta in qualche modo questa situazione? Si, si, no, no, si è risolta la situazione dal punto di vista pandemico si è risolta. E per quanto riguarda questa casa di assistenza, questa residenza per anziani permangono dei tassi dolenti? Non abbiamo, diciamo, sentori ufficiali di tassi dolenti all'interno della casa. Qualora ce ne dovessero essere, ovviamente, saremo in grado di parlarne con gli organi superiori e trovare magari una soluzione. Cosola, sempre per offrire un servizio ai cittadini, perché noi con questa tribuna elettorale stiamo accompagnando i telespettatori a questo voto del 3 e del 4 ottobre. Qual è il potenziale di Adelfia ancora in espresso? Moltissimo il potenziale di Adelfia. Moltissimo perché, ovviamente, Adelfia è un paese bellissimo, un paese dalle due anime. Mi ci tengo a sottolinearlo. È un paese che contiene in sé due anime, due anime che però hanno ognuna di sé delle proprie caratteristiche, un proprio folklore, delle proprie tradizioni che andrebbero sempre di più valorizzate. Noi abbiamo cercato, ovviamente, di percorrere questa strada in questi anni e credo di averlo fatto anche abbastanza bene. Ovviamente, moltissimo c'è da fare. Per questo, ovviamente, da soli non possiamo farcela. Dobbiamo chiedere sempre di più l'aiuto delle tante associazioni culturali che ogni giorno ad Adelfia ci danno una mano e collaborano affinché il nome di Adelfia sia rinomato in tutta la provincia di Bari, ma direi anche in tutta la regione. È ben collegata Adelfia con il resto, insomma, dei comuni, limitrofi, la città, l'area metropolitana. Siamo ben collegati, effettivamente. È un punto strategico e nevralgico di tutta la provincia. La vocazione di Adelfia qual è? È prettamente agricola, indubbiamente. È una realtà agricola da anni. Noi abbiamo una festa dell'uva che, insomma, sono diversi anni che si svolge nel nostro paese. È un campo questo che, ovviamente, tutte le amministrazioni cercano di valorizzare, pur tenendo conto delle mille difficoltà che il settore agricolo versa, non soltanto purtroppo nel nostro paese, ma credo in tutta Italia, a causa ovviamente di eventi non collegati alle realtà singole, ma purtroppo a quello che è il mercato mondiale. In questo caso, lei da eventualmente dovesse tornare a gestire e amministrare questo comune, che cosa si impegna a fare? Noi, innanzitutto, dobbiamo lavorare con gli agricoltori stessi, creare un tavolo con cui discutere e soprattutto un tavolo attraverso il quale, insieme, cercare delle soluzioni. La qualificazione del marchio, diciamo, di Adelfia, ma anche, diciamo, la valorizzazione di quello che ruota attorno all'agricoltura. Ci sono molti agriturismi nei paesi vicini. Perché non valorizzare anche Adelfia con quelli che sono i suoi prodotti e con quelli che sono le sue caratteristiche? Sarebbe un'idea bellissima, ovviamente. Per quanto riguarda i fondi in arrivo dall'Unione Europea, Adelfia come si posiziona e in che modo intenderebbe eventualmente investirli come ritiene sia giusto investirli? Allora, noi abbiamo già ottenuto in questi anni 4 milioni di euro. Cioè, tutte le opere che noi abbiamo realizzato ad Adelfia hanno visto la partecipazione minima o addirittura inesistente da parte delle casse comunali. Tutte le opere, ci tengo a sottolineare, che abbiamo realizzato e che andremo a realizzare, sono frutto di bandi vinti grazie alla Comunità Europea, attraverso la città metropolitana, attraverso anche la Regione. Abbiamo avuto 800 mila euro per la biblioteca comunale, abbiamo avuto quasi, avremo adesso 2 milioni di euro per la riqualificazione di Piazza Roma, dell'ex caserma dei Carabinieri, del prolungamento della zona Alveo. Alveo abbiamo vinto quasi 500 mila euro per la zona nuova di via Filzi. Insomma, una serie di progetti, ad esempio la Gabbia dei Leoni è frutto di un bando che abbiamo vinto attraverso la città metropolitana. Siamo arrivati i quinti, abbiamo realizzato questa bellissima struttura. Quindi dico ai cittadini, ad El Fies continueremo su questa strada. Abbiamo vinto anche bande, ad esempio, che non riguardano strettamente le strutture, diciamo, in sé per sé, proprio come strutture. Per esempio, abbiamo vinto più volte il bando per gli Adelfiadi, ad Adelfia, dove siamo sempre arrivati ai primi posti. Abbiamo vinto, per esempio, il bando della Torre Normanna. Abbiamo vinto il bando per i Murales, 40 mila euro per arredare Adelfia, perché è importante il decoro di un paese, con dei Murales. Cioè una serie di bandi vinti grazie all'opera della nostra amministrazione che ha intercettato tutti questi finanziamenti e li ha portati nel nostro comune. Questo prima non avveniva. Quali sono le domande più ricorrenti che i cittadini sottopongono all'amministratore principe della città? No, si va dal marciapiede purtroppo rotto, alla sporcizia sotto casa, alla lite con i vicini di casa. Ai cinghiali che infestano le strade limitrofe. Questo è un problema nuovo, si è presentato una mattina. Da pochi giorni, esatto. Sì, però grazie al cielo non si è più ripresentato. Speriamo che si tengano lontani da Adelfia, si mantengono dalle parti di Bari così, per dare fastidio a De Caro. E a proposito, diceva, delle strade un po' dissestate, dei marciapiedi rovinati, cosa c'è da fare? No, no, abbiamo già, diciamo, messo mano a diverse strade. Abbiamo asfaltato Viale La Bianca, cioè la via di San Nicandro. Abbiamo asfaltato via Vittorio Emanuele, la via di Acquaviva. Abbiamo asfaltato via Piscina Nuova, via Chiancaro, via San Francesco d'Assisi, via Attolico, via Luigi Rizzo, via Borgo San Rocco. Insomma, una moltitudine di vie che, ricordiamo Adelfia, erano 15 anni che non vedeva una lacca di asfalto sulle proprie strade. Vi dico di più, questa opera continuerà perché abbiamo, non so se avete saputo, abbiamo avuto 300 mila euro anche di ulteriori finanziamenti da dedicare agli asfalti delle strade. E abbiamo già messo mano al progetto che verrà consegnato in queste ore alla Regione. Quindi io, fra novembre e dicembre, continueremo quest'opera di manutenzione delle strade locali. Cosola, che sapore ha avere come sfidante un ex vice sindaco? Diciamo che fa un certo effetto, sono onesto, anche perché in fondo eravamo anche amici. Abbiamo vissuto quell'esperienza in maniera tranquilla, serena, insomma anche appassionata. Però, io ripeto sempre, non sono assolutamente che loro ne dicano, ne pensino, responsabili di quella situazione. Una situazione da scrivere solo ed esclusivamente a lui e al suo gruppo, perché io fino all'ultimo ho cercato di recuperare questa frattura. Non ci sono state le possibilità e si sono, diciamo, loro volontariamente autoesclusi da questa amministrazione. Crede che questo, in qualche modo, possa condizionare anche i cittadini? Che idea possono farsi gli elettori rispetto a una situazione di questo tipo? Le ritiene di dover essere preoccupato, aver ragione di essere preoccupato rispetto a questa cosa? Diciamo che la sfida è fra due parti, quindi non hanno molta scelta. Più che alta è curiosa questa scelta fra il sindaco uscente e il vice sindaco dell'amministrazione stessa. Precisiamo, lei, liste civiche, Pirolo, altrettanto sotto il simbolo del PD. Del PD. Quindi, diciamo, dovrebbero essere, credo, più la parte opposta, preoccuparsene, perché sono loro che presentano, diciamo, una coalizione un po' così, in cui il candidato sindaco del centro-sinistra è il mio vice sindaco uscente, Fittiano, molto vicino al centro-destra. Dunque, dunque, ovviamente ricordiamo a Pirolo che in qualunque momento può replicare, noi siamo qui sempre a disposizione per intervistarlo. Anche io. Sarebbe stato ovviamente un piacere per entrambi e anche per me avervi in questo momento contemporaneamente e simultaneamente. Ovviamente, lasciando adesso, no, la chiosa di natura puramente politica, torniamo ai programmi per Adelfia, non dimentichiamo i veri protagonisti, cosola, del voto, sono sempre i cittadini, quindi loro sono sempre al centro di questi dibattiti, perché a volte ci si perde, no, un po' anche nel gossip politico e invece c'è bisogno di dare delle risposte. Il suo cavallo di battaglia è quasi un appello al voto. Ci sono gli adelfiesi che ci stanno seguendo. Lei sa anche in cuor suo su che cosa rilanciarsi, visto che ha scelto di ricandidarsi al BIS? Io, cinque anni fa, lanciai uno slogan che si chiamava il sindaco amico. Credo di aver in questi cinque anni mantenuto la promessa. Sono stato un sindaco amico per tutti i cittadini Adelfiesi. Non ho mai sfuggito nessun tipo di incontro, né per strada, né sul comune, nelle sedi opportune. Sono stato sempre a disposizione dei cittadini. L'ho fatto con passione, l'ho fatto consapevole che il mio dovere di sindaco era proprio quello di essere tra i cittadini e ascoltare i loro problemi. E credetemi non è facile farlo, perché ovviamente in un piccolo paese del sud i problemi sono tantissimi e tanti sono le aspettative dei cittadini di essere risolti questi problemi dal primo cittadino. Io ai cittadini dico questo, non vi ho delusi, sono stato sempre con voi. Chi mi ha cercato mi ha trovato in qualsiasi punto, quel cardinale del paese. Io dico che la politica molte volte è molto più facile di quello che si voglia far credere. È una linea logica. Se quello che io ho realizzato in questi cinque anni vi è piaciuto, cari cittadini, se le opere che ho aperto, le attività che abbiamo messo in campo, il campo scuola, gli adelfiadi, le aperture delle tante piazze, delle tante aree, l'ascensore comunale che mancava da tanti anni, se tutto quello che io ho realizzato vi è piaciuto, allora credo che avete solo una cosa da fare, ridarmi fiducia. Io vi garantisco che manterrò anche nei prossimi cinque anni la stessa passione, la stessa voglia di fare, e se volete anche la mia stessa grinta, il mio stesso carattere, perché io non ho ambizioni, non penso ad altro, ho una sola cosa nel cuore, a Delfia. Diceva piccoli comuni, qua parliamo di comuni minori, da Delfia siamo oltre i 16 mila, abbiamo toccato quasi 17 mila. Vale un po' come per i figli, i figli piccoli, grandi problemi, lo stesso vale per i comuni oppure no? Le possiamo prendere in prestito questa metafora. Io credo che i comuni più piccoli per un sindaco siano più difficili da gestire, perché ci si conosce tutti. Quindi il sindaco è un po' il punto di riferimento, tutti sanno dove abita, tutti sanno dove esce la sera, tutti sanno che... Non si scappa. Non si scappa. Il sindaco, ma un sindaco deve essere così, è difficile, ma un sindaco deve essere così, non si può scappare. Io credo che, io dico sempre che non ho figli, ma ho 17 mila figli, lo dico veramente, perché alla fine i problemi di tutti i 17 mila cittadini a Delfia si diventano problemi miei, non si dorme la notte, certe volte, perché pensi a risolvere il problema del cittadino. A chi dedica eventualmente questo percorso che lei sceglie di riaffrontare con questa nuova sfida? A chi lo dedica? Se ha ricevuto, e qui una domanda un po' che cade nell'ambito privato, supporto dai suoi familiari, da chi le sta accanto? Sempre, dai miei familiari. In questo percorso, come diceva giustamente, non è facile. Sono stati loro i primi ad incoraggiarmi, sin dalla prima esperienza di sindaco, e mi hanno rivoluto nuovamente in questa esperienza. Insomma, li ringrazio perché senza di loro non saprei come andare avanti. Lei mi ha chiesto a chi dedicherò questa vittoria. Anche, anche, certo. La dedico a una persona che però preferisco... È già certo di vincere, Cosola? Sì, diciamo che merito di vincere. Merita di vincere. A chi dedicherà, diceva? A una persona che però voglio tenere nel mio cuore. Una persona che vuole tenere nel suo cuore. Bene, e allora, io ringrazio Giuseppe Cosola, sindaco uscente... E che è sempre stata la mia sostenitrice, da sempre. E basta, non sveliamo il nome, non sveliamo niente. La ringraziamo intanto per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito. Ringraziamo anche tutti voi che ci seguite. Rinnovo l'invito a Costantino Pirolo, siamo sempre a sua disposizione. Ribadisco, grazie ancora a tutti. Un buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.